Sì, sicuramente sì, perché poi tira dentro il sentimento di tutti gli italiani, per cui non si ha a che fare solo con un club o con una tifoseria, ma ci sono proprio tutti. I bambini vestiti di tutte le maglie d'Italia sono tutti lì a chiedermi poi sempre la stessa cosa, mister mi raccomando, mister mi raccomando. E noi siamo a tentare di dirgli che poi è molto importante quello che sarà il suo contributo. I nostri bambini ci daranno un contributo enorme, noi bisogna saperlo recepire, noi bisogna farsi trovare pronti proprio per questo sentimento che viene dal basso. Una responsabilità che prendiamo volentieri perché così loro ci hanno indicato dove bisogna andare, perché poi la direzione e quella là hanno tracciato una via maestra che noi bisogna essere bravi ad imboccare e a seguire, a saper seguire. Claudio ha lavorato benissimo perché prima di tutto è una persona seria, una persona che ama il suo lavoro, un professionista unico e che tutti abbiamo potuto apprezzare. Quello che è il valore qui è chiaro che già proprio sentimentalmente quelli di questa regione sono un po' particolari, apprezzano poi quelli che sanno venire a farsi le proprie conoscenze, il proprio impegno nella maniera corretta e giusta. Qui ce n'è più di uno però da ricordare, noi siamo un popolo che ha bisogno di miti e Claudio Ranieri per questa regione qui è un mito e i miti sono anche quelli che in questo momento non ci sono più, come Gigi Riva per esempio.